Allora, compriamo qualcosa. Sardine si cade e restituisce metà salute. Grazie. Oh no. Ehm... No. Torna in scatola, restituisce poca salute. Ma a me non me ne frega. Questo è il meglio. C'è una pantorosa. No. Ehm... Dove si trova ora questo? Eccolo. Ehm... Dove si trova ora questo? No. Ehm... No, no, no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.